Buongiorno, sono a Parigi. Ragazzi, è la quindicesima volta che vengo a Parigi e semplicemente lo amo questa meravigliosa città. André e André, vi presento. Ciao André. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al Festival del Modo Slava Fil Rouge. Cosa mi racconti? Cosa presenti qua? Cosa hai preparato? In francese, ora. Ok. Ok. Io vi presento il Festival di creazione dei creatori slav, che sono venuti da 8 pays e che rappresentano le loro collection, che normalmente rappresentano l'esprit slav. E io vorrei mostrare al pubblico francese e alla presse francese cosa facendo a loro, cosa succede nei paesi dopo il Berlino. dall'altro cote. E questo mostra che là basso ci sono i design, ci sono le buone coupe, ci sono le belle fabbricazioni e dei buoni creatori che sappiano fare la moda. Grazie a tutti. Andiamo a vedere. Guardate cosa ho trovato per tutti voi. Ragazzi, sono innamorata, voglio tutti. La nostra bellissima fanciulla. Ragazzi, vi presento due floristi, una Tatiana e Elena dalla Russia, con amore, che accompagnano qualsiasi fashion evento e presentazione con le sue meravigliose creazioni. Buongiorno. Buongiorno, sono un florist e presento la collection delle relle che ho confettato per questo festival. Buongiorno, sono Gianluca Dibault e sono attaccato a la presse. Ciao, io sono Elena, designer Barda. Buongiorno, io sono, 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 io sono. Ragazzi, vi presento una giovane designer, Giulia, la mia sorella, no? Che è arrivata dalla Russia in una città che si chiama Per con la sua meravigliosa collezione. Seguitemi. La mia matrioshka. Chi vuole acquistare e avere questa bellissima città, contattatemi e vi facciamo amare. Allora, ragazzi, questa è una collezione meravigliosa che si chiama Zibra. La mia matrioshka è un duet di due persone, due persone che hanno diversi caratteri e diversi visibli, ma insieme si chiama Zibra. La mia matrioshka è una collezione meravigliosa. Vi chiamo Milani. Vi chiamo a Milani. Grazie. E noi stiamo chiamati Zibra da la Sravia Fashion Week da novembre 20-27 da Sravia. Grazie. 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 Ciao. 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 Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie.